Papà lo sai oggi che è successo a scuola? Che è successo oggi a scuola? Ah ma che sta a fare a mangiare? Che sta a fare? Si mangia quello che ci sta Ci sono due alici Un uovo Un pezzo di fungo, un broccolo Una banana, ah ci sta pure un pezzo di torta Comprendo tu di un mese fa Quello che c'è c'è Quello che sta a sangrasso, sta a fine del mese Vado a andare bene eh Va bene? Tutto a boccia E' pronto Cosa hai fatto? Allora ho fatto della pasta in bianco Con un po' di macinato Io chiamo Just Eat Io vado al Mc Donald, ciao bella Ma io sono svegliata Oh ma sono di 5 e mezza Guarda devo fare un sacco di cose, arriva di poi ho già anche i miei Ma ti sarei svegliata in tre Ma che sarà mai mica il Natale, è la domenica Ho fatto il sugo, qua ci ho messo i peperoni ripieni Qua devo pelare le patate Devo fare un sacco di cose Allora fammo una cosa, io dopo sveglio i bambini e porto in chiesa E poi rivelimo verso l'ora di pranzo Va bene, svegliamo dopo il pranzo Chiudo, c'ho un sacco di cose da fare Chiudo? Eh? Ci siete? Ragazzi oggi si mangia fuori E andiamo al centro commerciale E dove hai messo il banco? Ah mi sa che è di là, lo vado a trovare Non ci prendere mai Non ci prenderai Stefano apri, devo prendere il banco Ma oggi devo andare al centro commerciale Non mi prendere mai Ora vediamo Eccole pronte? 5, 4, 3, 2, 1 Oh dai stai facciamoci una foto, dai Vabbè, da solo, cioè metto il telefono così no? Fai un selfie Che è? Un selfie che è? Un boomerang Quello, che tipo? Un super zoom Un ritratto Eh, c'ho il pennello Veramente oltre, fai proprio niente Guarda, sono ricchi Ti è piaciuto il maglione? Si mamma, è bellissimo Sei stato proprio un affare Un mercatino, 3000 lire Questo qua te lo sfrutti per tutta la vita eh Leggermente... ma manco troppo Manco troppo Amore Bello Amore, ti è piaciuto il regalo? Una maglia bellissima Della Pirex Io voglio della fila La bella Pirex C'è costata 120 euro Sì, ma sotto i duecento cinese Sotto i duecento cinese Sotto i duecento cinese What up? What up? Ciao!